Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù. Gesù venne da Nazareth e di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni e uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo spirito discendere su di lui come una colomba e si sentì una voce dal cielo Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Messaggio del 18 marzo 1998 Cari figli, vi invito ad essere la mia luce a rischiarare tutti coloro che vivono ancora nelle tenebre e a colmare i loro cuori con la pace di mio figlio Gesù. Grazie. Per aver risposto alla mia chiamata Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done on earth as it is in heaven Panem nostrum quotidianum da nobis sodie et dimitte nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. 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 Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nostra, vigne inferiori. Perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie tue maxime indigen. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis, requiem eternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lume ne custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Messaggio del 18 marzo 1993 Cari figli, è mio desiderio che mi diate la vostra mano affinché io possa portarvi come una madre sulla retta via e condurvi al vostro Padre Celeste. Apritemi i vostri cuori e lasciatemi entrare. Pregate perché io sono con voi nella preghiera. Pregate e lasciate che io possa guidarvi. Vi condurrò nella pace e alla felicità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga è il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis sodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nostra, abigne inferiori. Perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Requiem Eternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lumen custodisci, regio e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio. Gesù si recone la Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Messaggio del 25 settembre 2005 Cari figli, anche se siete lontani dal mio cuore, vi chiamo nell'amore. Convertitevi, non dimenticate. Io sono vostra madre e sento dolore per ognuno di voi che è lontano dal mio cuore. Ma io non vi abbandono. Credo che potete lasciare la via del peccato e decidervi per la santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Oce naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra sicutet nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indukas intentacionem, sed libera nosa malo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie Tue maxime indicent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luce a Teis. Requiescanti in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lume le custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Messaggio del 25 luglio 2001 Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito ad avvicinarvi ancora di più a Dio attraverso la vostra preghiera personale. Utilizzate bene il tempo di riposo e donate alla vostra anima e ai vostri occhi il riposo in Dio. Trovate la pace nella natura e scoprirete Dio, il Creatore, al quale potrete rendere grazie per tutte le creature. Allora troverete la gioia nel vostro cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Votre unse im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Panem nostrum quotidianum, da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, tu bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas, preserti meas, que misericordie tue maxime indigent. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis, requiem eternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, il lume ne custodisce, regge e governa a me, che ti fui affidata, dalla pietà celeste. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'Alleanza, versato per molti in remissione dei peccati». Messaggio del 18 marzo 2002 «Cari figli, come madre vi prego, aprite il vostro cuore, offritelo a me e non abbiate paura di nulla. Io sarò con voi e vi insegnerò come dare a Gesù il primo posto. Io vi insegnerò ad amarlo e ad appartenere totalmente a Lui. cercate di comprendere, cari figli, che senza mio figlio non c'è salvezza. Occorre che sappiate che è Lui il vostro inizio e la vostra fine. Solamente con questa consapevolezza potete essere felici e meritare la vita eterna. Io, come vostra madre, desidero questo per voi. Baba etu, urie binguni, jinarako oritukuze, ufarmo wako ufike, utakara orifanyike duniani kama binguni, utupe leo mkate wa klasiku, utusamehe makosa yetu, kama tunavio asamehe na sisi wario tukosea. Panem nostrum quotidianum dano bisodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nenos indukas intentationem, saed libera nosa malo. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa akuriko na wake wote, na Yesu muona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc, et inora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa akuriko na wake wote, na Yesu muona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc, et inora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa akuriko na wake wote, na Yesu muona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc, et inora mortis nostre. Amen. Salamu Maria, umejawa neema, buona yunawe, umebarikiwa akuriko na wake wote, na Yesu muona watumbu rako, amebarikiwa. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc, et inora mortis nostre. Amen. amebarikiwa akuriko na wake wote, amebarikiwa akuriko na wake wote, amebarikiwa akuriko na wake wote, Na Yesu mwana watumburako ame barikiwa Sancta Maria Mater Dei ora pronobis peccatoribus Nunca etinora mortis nostre, Amen Salam Maria, umejawa neema, buona yunave Ume barikiwa kuriko na wake wote Na Yesu mwana watumburako ame barikiwa Sancta Maria Mater Dei ora pronobis peccatoribus Nunca etinora mortis nostre, Amen Salam Maria, umejawa neema, buona yunave Ume barikiwa kuriko na wake wote Na Yesu mwana watumburako ame barikiwa Sancta Maria Mater Dei ora pronobis peccatoribus Nunca etinora mortis nostre, Amen Salam Maria, umejawa neema, buona yunave Ume barikiwa kuriko na wake wote Na Yesu mwana watumburako ame barikiwa Sancta Maria Mater Dei ora pronobis peccatoribus Nunca etinora mortis nostre, Amen Atukuze baba na mwana narohom takatifu Sicut erat in principio et nunca et semper Et in saecula saeculorum, Amen Domine Yesu, dimitte nobis debita nostra Salva nos ab igne inferiori Perduc in celum omnes animas Preserti meas Que misericordie Tue maxime indicent Maria Regina Pacis ora pronobis Requiem eternam dona eis Domine Et lux perpetua luce ateis Requiescanti in pace, Amen Angelo di Dio, che sei il mio custode Lui me ne custodisci, regge e governa me Che ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo Ti domando perdono per tutti coloro che non credono Non adorano, non sperano e non ti amano Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre e per la Chiesa Padre nostro che se ne cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come un cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi rimettiamo i vostri debitori Non ci indurre in tentazione Ma liberaci dal male, Amen Ave Maria, piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetto fra le donne Benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Ad essere nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, Figlio e lo Spirito Santo Com'era nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli, Amen L'eterno riposo Angelo di Dio, che sei il mio custode Il lumen custodisci Regio e governa me Che ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen Grazie a tutti 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 Grazie a tutti